Da pochi giorni è stata riaperta la strada che porta al rifugio San Lucio, è entrato in vigore anche un sistema con il quale è possibile pagare la sosta, con il cosiddetto gratta e sosta, quindi state tornando alla normalità con la riapertura della strada. Sì, la strada ormai è stata ultimata, il gratta e sosta, i cartelli ormai sono sulla strada e quindi da ora è attivo il gratta e sosta in tutti i parcheggi dove è possibile parcheggiare lungo la strada e il parcheggio quello alto, grande della strada di rifugio San Lucio via Berro. Perché per voi è importante l'intervento che è stato realizzato con l'asfaltatura? Allora, l'asfaltatura prima cosa ha dato una grande fruibilità alla strada per tutti, diciamo, la gente della Varseriana, di tutti quanti, perché essendo asfaltata anche un anziano che prima non voleva salire, adesso può salire, ma soprattutto come avete visto oggi che è la giornata invernale con la neve, con un poco di sole e con l'asfalto la neve va via, se fosse stata sterrata come gli altri anni avremmo avuto la neve da cima a fondo bianca fino a fine marzo. Quindi grazie all'asfalto riuscite a intervenire meglio con anche la pulizia della strada? Sì, con l'asfalto poi anche nel pratico, nel pulirla con la lama, sull'asfalto ne lasci giù un centimetro. Prima, con i sassi, con le buche che c'erano, ne rimaneva giù 20 centimetri e quindi prima che andava via, come dicevo prima, arriva a marzo. Resta comunque una strada di montagna, quindi ci vuole anche una certa attenzione? Allora, da normativa, siccome è una strada vicinale a uso pubblico, in fondo ci sono i cartelli di obbligo catene durante l'inverno, per cui uno deve assolutamente almeno averle a bordo. L'altro discorso è che siccome durante la pulitura della strada è capitato ancora di trovare macchine lungo la strada o nei parcheggi, il comandante dei vicini ha fatto un'ordinanza per cui il consorzio abilitato in quel frangente, nella pulizia della strada o se c'è condizioni straordinarie in cui è molto pericolosa, il consorzio può chiuderla per quel giorno, o quei due giorni, finché la strada non è in condizioni buone per poter salire. E per quanto riguarda il rifugio, voi ora attendete di poter riaprire, quando i DPCM lo consentiranno? Sicuramente sì, noi siamo pronti ad aprire, però dobbiamo aspettare quello che diranno i nuovi DPCM. Sicuramente in questi mesi parecchia gente di Clusone, data la nevicata eccezionale che c'è stata quest'anno, sia con le sci, con le ciaspre, così è stata molto frequentata la nostra zona qua. Quindi c'è l'interesse? C'è molto interesse perché il posto si vede, la gente lo conosce, c'è un panorama, prati, boschi spettacolari qua. E quindi, come dicevo prima, l'asfalto porterà sicuramente un giovamento a tutti quanti, la comunità nostra qua a Valseriana, ma anche Milano, Brescia, Varese, tutti quelli che possono venire qua. Sono Bassanelli, nuovo consigliere comunale del comune di Clusone. Sono entrato a far parte del consorzio San Lucio. La nuova amministrazione approva con grande soddisfazione il progetto per l'asfaltatura della strada per far sì che la montagna diventi un punto per fare turismo. E colgo l'occasione per ricordare a tutti i cittadini che salgono in San Lucio che è partita il parcheggio a pagamento con il gratta e sosta. I parcheggi sono circa 52 qui fuori dal rifugio e altri 48 scendendo verso valle. Vi ricordo che se non avete il gratta e sosta siete soggetti a multa come se fosse una strada normale. Vi ricordo i punti vendita del gratta e sosta che sono Bar Sport Bocciofila in via San Lucio, Bar 500 via Vogno-Rovetta, Bar Milano via San Defendente-Clusone, tabaccheria della stazione Autobus Piazzale Repubblica-Clusone, rifugio San Lucio-Clusone, tabaccheria Bianchi-Piazza Orologio, distributore carburanti Scandella-Viale Europa, Bar Km0 distributore carburanti Scandella lungo la ex statale 671 e la Proloco-Clusone. Un ringraziamento particolare al comandante dei Vigili Giuliano Vitali per tutta la disponibilità che sta dando per mettere in sicurezza la strada e per i parcheggi. Vi ricordo che la strada a Bersa-Luccio è una strada consorziale e fa a capo un consorzio. L'intervento di asfaltatura sulla strada che porta sulle Monte San Lucio è un'opera attesa da tempo, siete particolarmente soddisfatti quindi per quello che è stato fatto, anche se non è stato semplice arrivare a questo risultato. Diciamo di sì, è stato un inter burocratico molto lungo e ricordo che il tutto è iniziato nella prima amministrazione Olini nel lontano 2011 dove l'amministrazione è tentata di costituire il consorzio che sarebbe poi servito questo consorzio a gestire la strada, a tenerla in manutenzione e a far sì che ci fosse poi un soggetto che era dedicato alla gestione di questa strada stessa. Diciamo che, ripeto, è stato un inter molto lungo e che ha impegnato moltissimo gli uffici, gli uffici tecnici del Comune, l'ufficio patrimonio in particolare, quindi chiaramente un ringraziamento dall'architetto Locatelli e all'ingegnere Marco Bergamini e è un progetto a cui ha creduto molto l'amministrazione dell'epoca e poi la successiva, quindi la seconda amministrazione del sindaco Olini. Una volta deciso poi di mandare avanti questa avventura e il consorzio è cominciato a lavorare ma ricordo, pare di averlo già annunciato più volte dai vostri microfoni, che lo stesso direttivo del consorzio era in grossa difficoltà perché doveva gestire una cifra abbastanza contenuta, ricordo 15.000 euro l'anno e che rimanevano circa 10-12.000 da investire su quelli che erano i propri lavori per la manutenzione della strada e quindi eravamo anche abbastanza criticati da parte di alcuni consorziati perché giustamente dicevano, ma buttate i soldi, noi pensavamo a sistemare la strada un paio di volte l'anno, chiaramente il fondo in terra battuta regge finché non arriva un temporale, un evento atmosferico magari abbastanza pesante che rendeva la strada alle condizioni precedenti, quindi nel giro di una giornata avevamo una strada distrutta. Quindi chiaramente bisognava ragionare su qualcosa di più duraturo, questo non era altro che pensare ad asfaltarla, ma chiaramente l'investimento non era alla portata di quello che era il budget del consorzio stesso. Ricordo che abbiamo investito 300.000 euro perché a base d'aste il progetto era di 297.000 euro di lavori da effettuare, se li ha giudicata, fra l'altro siamo contenti di questo, anche perché abbiamo invitato 5 imprese, ha vinto l'impresa di Clusone, si è giudicata l'opera, ha lavorato bene e ringraziamo anche quella perché è stata molto veloce nei tempi di esecuzione e molto competente perché sembra che il lavoro sia fatto anche abbastanza bene. Ricordo che è un lavoro che non si svolge neanche in condizioni ottimali perché la stradina è quella che è, c'è un sacco di afflusso di turisti, di fungaioli, di cacciatori, di gente che vuole passeggiare e che chiaramente pretende anche di poter salire. Ovviamente l'impresa deve gestire anche queste cose e le ha gestite molto bene. È stata coadruvata molto bene anche dal comando di polizia locale che li ha coadruvati in queste opere di convincimento rispetto a tutti i turisti che volevano salire anche con la strada chiusa e quindi hanno pensato loro a convincerli ad esistere un attimo. Comunque i lavori effettuati, ripeto, effettuati bene. Ringrazio anche il progettista perché anche lo stesso progetto è stato fatto in maniera molto molto puntuale perché addirittura il consorzio adesso dispone anche di un rilievo puntuale della strada stessa e potrebbe arrivare anche a pensare un tempo di, grazie a questo rilievo, di effettuare un frazionamento della strada per magari acquisire anche quei metri quadrati della strada che sono di proprietà dei vari consorziati frontisti rispetto alla strada. L'intervento è stato possibile grazie al fatto che i consorziati hanno deciso di, su richiesta del consiglio di amministrazione del consorzio stesso hanno deciso di versare volontariamente e anticipatamente più annualità in un'unica soluzione. C'è chi è arrivato a versare addirittura 15 annualità circa un terzo dei consorziati, un altro terzo circa ha versato 10 annualità e gli altri hanno deciso di continuare a versare le annualità anno per anno come richiesto da prassi. Chiaramente grazie a questo sforzo, perché ricordo è sicuramente uno sforzo non da poco perché penso che qualcuno avrà dovuto fare anche dei sacrifici perché ha sbossato cifre anche consistenti. Ricordo che lo stesso rifugio San Lucio, senza fare dei numeri, ha sbossato una cifra importante, è vero che questa è un'azienda e quindi sarà un investimento a livello di bilancio inserito nella sua azienda ma comunque ha sbossato un sacco di soldi e è grazie a questa cifra che è stata raccimolata che il progetto e l'opera è diventata appetibile rispetto alle imprese perché le imprese, ricordo che l'impresa ha comunque noi abbiamo raccolto circa 200 mila euro grazie anche a un finanziamento che ha elargito l'amministrazione comunale alla quale ha creduto molto il sindaco Olini che devo ringraziare veramente perché una volta segnalata la cosa ci ha creduto e mi ha detto di portarla avanti e quindi siamo partiti anche su quel fronte e una volta ottenuti anche questi 50 mila euro in più messi insieme a tutte le somme anticipate ai consorziati hanno costituito una cifra di circa 200 mila euro che hanno permesso alle imprese invitate di capire che almeno 200 mila euro li potevano incassare da subito gli altri 120 mila circa che mancano ancora verranno liquidati in 4 anni e quindi in 4 anni il consorzio si impegnerà insieme al comune perché è stata firmata una convenzione tra il consorzio e l'amministrazione comunale attuale del sindaco Mostavilini che prevede che il comune e l'amministrazione comunale si impegnerà a elargire la cifra necessaria per saldare l'impresa a fronte di opere dell'impegno da parte del consorzio di tenere in manutenzione la strada gestire la strada stessa e mantenerla in sicurezza